Il tour dell'Avenir, la corsa a tappe Under 23 per equip nazionali, che ha rivelato tanti giovani talenti delle due ruote, poi divenuti protagonisti del circuito professionistico, appartiene al patrimonio internazionale del ciclismo e sarà l'Italia ad ospitare il finale della sessantesima edizione, il 23 e 24 agosto, con due tappe nei territori della città metropolitana di Torino. Un'incursione in Piemonte che servirà anche come cornice alle due ultime tappe del tour dell'Avenir femminile, giunto invece alla sua seconda edizione. Le tappe Lecarelli Condove di venerdì 23 agosto e Bobbio Pellice Colle delle Finestre di sabato 24 sono state presentate nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nel grattacielo della regione Piemonte. L'ingresso della corsa in Italia e in Piemonte avverrà venerdì 23 attraverso il Colle del Moncenisio, a circa 70 chilometri dall'arrivo di Condove. Il giorno successivo, sabato 24 agosto, l'ultima tappa partirà da Bobbio Pellice e si concluderà ai 2176 metri del Colle delle Finestre, dopo 18 chilometri di salita, di cui gli ultimi 7,8 su strada sterrata. Siamo contentissimi di poter ospitare la sessantesima edizione del tour dell'Avenir sul territorio di città metropolitana. Gli organizzatori hanno spinto tanto per realizzare questa edizione in versione trasfrontaliera e diciamo che questo appuntamento chiude un po' un cerchio di grandi eventi ciclistici che nel 2024 hanno attraversato il nostro territorio. Il Giro d'Italia, il Tour de France, il Giro d'Italia dei giovani, Next Gen e adesso il tour dell'Avenir. Le comunità locali, le amministrazioni, le associazioni, le squadre sportive si stanno tutte attivando per rendere questo appuntamento indimenticabile. Città metropolitana ha fatto la sua parte come coordinamento. È stata l'ente che è stato contattato per primo dagli organizzatori per capire se c'erano le condizioni per realizzare qui da noi il tour dell'Avenir. Per noi è un anno particolarmente importante, organizziamo i giochi olimpici e svolgiamo anche il tour dell'Avenir. Abbiamo cercato di lavorare su un progetto internazionale tra la Francia e l'Italia. La destinazione giusta perché generalmente la corsa termina sulle Alpi. Abbiamo deciso con piacere di venire due giorni in Piemonte. Bernaino, queste due salite, Moncenisio e Colle delle Finestre, due salite che potranno diventare storiche nel ciclismo giovanile? Sì, sì, è così perché sugli 8 chilometri del Colle delle Finestre non c'è strada asfaltata, sono strade bianche. È geniale, segnerà i corridori, qualcuno potrebbe scegliere di fare strade bianche l'anno prossimo. Può spiegare agli appassionati italiani di ciclismo l'importanza del tour dell'Avenir nel ciclismo internazionale? E' la finale della Coppa del Mondo Under 23 e per noi dell'organizzazione tutto ciò è fantastico. Scopriamo giovani corridori come Pogacar. Pensa che potremo vedere il Tour de France al Colle delle Finestre nei prossimi anni? Penso che avendo il numero di telefono chiamerò Christian Prudhomme e gli dirò vieni a vedere.